Stanca di aspettare la mirada della tua vita? O di aspettare che lui ti conceda il tango perfetto? Oppure lei si abbandona ma non padroneggia il proprio asse e tu sei stanco di fartene carico? Donna, scopri il piacere di ballare guidando. Uomo, impara a goderti il tango ad occhi chiusi, abbandonato alla guida di lei. Da oggi puoi. L'ultimo giovedì di ogni mese da Independent Tango, la nuova milonga in libero scambio dei ruoli. Grazie per la visione!